Ora per Chico, va da Ferrari, ora per Fragonale, altra tripla, mette a segno un'altra tripla Fragonale, invece Cecchi va a penetrare, a trovare il tiro, l'errore di Cecchi, il fallo e il canestro di Ferrari, che vedo contando e quindi altra violazione e farla persa per Bergamo. La tripla di Ferrari, è difficile da digerire, Ferrari, ancora lui, il tiro di Ferrari e il vantaggio, il vantaggio, 11 a 0 di parziale, gli ultimi 3 minuti e 48 secondi con Cecchi, mano da Ferrari, l'uomo che ha riportato il vantaggio della squadra piemontese, l'errore di Ferrari, riprende il rimbalzo e realizza ancora lui. Ferrari, ancora lui, arriva il ferro, l'errore, il rimbalzo, ancora Ferrari, altro gran canestro di Ferrari. Il blocco di Ferrari, il pick and roll, poi torna indietro Fragonara, ancora per Ferrari, la spazzatura per lui, la tripla di Ferrari, grande quarto quarto del numero 24. Il blocco di Ferrari.